Ho scoperto delle cose che so che non vorreste dirle, però io lo posso fare perché non c'ho niente da perdere, per cui io le dico. Dopo quello che hai fatto, ha vinto il Napoli. Ormai c'è... Che cosa hai scoperto? Insomma, c'ho delle cosette che ovviamente tu non lo diresti mai, qualcun altro non lo direbbe mai. Io sì, posso? Sì, ma cosa sono? Allora, è delle robe che un po' ti riguardano. Noi che ci dicevamo, mamma mia quanti capelli, sembri Riccardo Cocciante. E ora invece, mamma mia, hai perso tutti i capelli, sembri Carlo Conti. Ma questo non è vero che è arrivato. Questi sono arrivati veramente. È arrivato, è arrivato, mi arriva proprio via fax. Via fax. Noi che vediamo Carlo Conti nei filmati di qualche anno fa, quando era brutto lillo. Ma che era brutto lillo? Brutto. Ma così brutto, che se fosse stato il Principe Azzurro. Ma quale aspettare mezzanotte? Ce ne rendono alle nove, nove e un quarto. Già stava a casa, chiusa dentro e sprangata. Ma questi non sono arrivati. Alla fine si è iscritti tu, dai. Ma è arrivato qua in tasca. Ah, figura. Noi che la mamma ci diceva, se non mangi viene l'uomo nero. E noi che diciamo ai nostri figli, guarda che se non mangi viene Carlo Conti. Mi sono arrivati, mi sono arrivati. Ma per me può bastare anche qui, eh. Non so se ne ha un altro. Ci bastarà, io non la vorrei proprio dire, però la dico perché... No, vabbè, non dirla. La deve dire? Sì! Eh, come lo sai? Noi che ci chiediamo, ma Carlo Conti è abbronzato proprio dappertutto, dappertutto. Andiamo avanti, andiamo avanti.